Sono sette i candidati della Lega in provincia di Pescara per le prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale d'Abruzzo. Questa mattina sono stati svelati i nomi dal commissario provinciale del Movimento di Salvini Gianfranco Giuliante nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sede della provincia di Pescara. I nomi sono quelli di Nicoletta Verì, ex consigliere regionale, Angelita Palumbo, consigliere comunale di Montesilvano, Carla Ricci, imprenditrice nel campo del commercio, Lino Galante, presidente regionale dell'Associazione Liberi Agricoltori, Vincenzo Dincecco, consigliere comunale di Pescara, Luca De Renzi, imprenditore, Ottavio De Martinis, vicesindaco di Montesilvano. Giuliante, fino a quando sarete disposti ad aspettare per conoscere il nome del candidato unico del centro-destra, se sarà tale per le regionali? Beh, intanto bisogna dire che alcuni partiti secondo me stanno completamente sbagliando l'impostazione. Il perimetro di quelle che sono le possibili candidature del centro-destra nell'ambito della coalizione in senso stretto è già stato definito con accordi romani che hanno previsto che nel caso specifico sia Fratelli d'Italia ad indicare il nome. Per quello che riguarda il perimetro invece dei candidati possibili che debbano e possono essere oggetto di discussione sul territorio, mi sembra che bisogna prendere atto che c'è un comparto, quello civico, che è entrato in campo, è entrato in campo in maniera prepotente con manifestazioni, con programmi, con prese di posizioni che non possono essere trascurate. In questo momento l'unità del centro-destra è un obiettivo essenziale perché senza unità si rischia evidentemente di non cogliere una vittoria annunciata ma ritengo che questo debba comportare da parte di tutti dell'umiltà, non ci debbono essere veti preventivi né bisogna che qualcuno inconsapevolmente faccia un percorso di natura leninista laddove si sono fatti preventivamente dei veti e successivamente a causa dei veti fatti l'azione che sono state conseguente hanno comportato la possibilità da parte di alcuni eminenti politici del territorio di poter dire che l'occasione che avevano creata è poi diventata la giustificazione per continuare ad opporre veti.